Salve ragazzi, questa è una lezione un po' particolare perché è dedicata esclusivamente all'infiammazione, infiammazione conosciuta per le sue quattro caratteristiche che la identificano Rubor, Calor, Tumor, Dolorp, già conosciute nell'antica Roma da Aulo, Cornelio e Celso. Quel fenomeno che spesso noi consideriamo negativo, che invece in realtà è una forma di difesa di tipo a specifico che il nostro organismo mette in atto nei confronti di lesioni o di agenti estranei che sono penetrati nel nostro corpo. L'infiammazione quindi è una forma di protezione, una reazione di protezione contro gli agenti estranei non deve essere vista come un evento negativo, anzi è un campanello d'allarme che ci permette di comprendere che qualcosa non va nel nostro organismo ma comunque è un campanello d'allarme che mette in atto una serie di risposte adattative per favorire la guarigione. Vediamo adesso come avviene nella risposta infiammatoria quali sono le fasi. Le fasi sono principalmente schematizzabili in due fasi, la fase vascolare in cui si produce un essudato e la fase cellulare in cui intervengono i fagociti. Durante la fase vascolare a causa della lesione prodotta sulla cute i mastociti presenti nel sottocutaneo producono una sostanza particolare che è rappresentata dall'istamina. L'istamina è una sostanza chimica prodotta dai mastociti presenti nel sottocutaneo che agisce sui capillari sanguigni creando delle dilatazioni e delle aperture particolari all'interno dei capillari delle fenestrazioni attraverso le quali fuoriescono i fagociti che in realtà derivano dai monociti del sangue che hanno subito un processo di trasformazione in attività fagocitaria. Al termine di questa prima fase viene prodotto un essudato costituito prevalentemente dalle cellule fagocitarie, dalle proteine del complemento e dai liquidi stravasati dal capillare. Durante la fase cellulare macrofagi e granulociti neutrofili provenienti dal capillare dilatato fagociteranno batterie e detriti di cellule morte che si sono prodotte a causa del fenomeno infiammatorio. Al termine del processo si avrà pertanto l'eliminazione di tutte le cellule morte, di tutti i detriti dovuti al processo di necrosi e quindi la restituzione di integrum dell'intero tessuto che era stato colpito dal fenomeno infiammatorio. Ecco per voi un video che riproduce l'intero processo infiammatorio è in inglese ma per voi non è un problema, no? Inflammation is the protective reaction of vascularized tissue to local injury. Acute inflammation is the early, almost immediate reaction of tissue to the injury and it is the first phase of wound healing. Acute inflammation can be triggered by cell or tissue damage or by the presence of dead cells or noxious agents such as bacteria. Acute inflammation typically occurs before the immune response becomes established and aims primarily at removing the injury causing agent and limiting the extent of tissue damage. Acute inflammation occurs in two overlapping stages, vascular and cellular. In the vascular stage arterioles and venules near the site of injury constrict briefly then dilate. Dilation promotes congestion while an accompanying increase in capillary permeability leads to the movement of fluid into the affected tissue resulting in the five classic signs of inflammation. Redness, swelling, heat, pain and loss of function. As fluid leaves the capillaries, the blood remaining in circulation becomes more viscous, it flows more slowly and clotting occurs. The cellular stage of acute inflammation is initiated by the movement of thagocytic white blood cells or leukocytes into the area of injury. The leukocytes begin to adhere to the vessel wall and then in a process called emigration, squeeze through the wall and move into the inflamed tissue. The leukocytes wander through the tissue guided by chemical signals in a process called chemotaxis. The cellular stage culminates in the leukocytes engulfing and degrading the bacteria and cellular debris in a process called phagocytosis. Products of phagocytosis along with plasma and blood cells form exudates which accumulate causing swelling and pain. Exudates are composed of serous fluid, red blood cells, fibrinogen or tissue debris and white blood cell breakdown products. Concurrent with the events of the vascular and cellular stages, chemical mediators release bioactive agents that act to mediate the inflammatory response. Mediators are derived from the cells or from plasma. One of the first mediators of an inflammatory response is a cell-derived mediator, histamine, found in high concentrations in the mast cells of connective tissues adjacent to blood vessels, as well as in blood basophils and platelets. Histamine is released in response to a variety of stimuli and causes dilation and increased permeability of capillaries. Serotonin, another cell-derived mediator, performs similar actions. Complement cascade causes vasodilation, promotes leukocyte chemotaxis and augments phagocytosis. Acute inflammation comprises a variety of complex protective responses to injury that, together, lay the groundwork for the next stages of the body's recovery, immune response and tissue repair. Ripetiamo le fasi principali del processo. Durante la fase cellulare dell'infiammazione, i mastociti presenti nel connettivo rilasciano istamina che determinano aumento della permeabilità dei capillari periferici. I mastociti fuoriescono dai vasi periferici delle proteine coagulanti che noi ritroveremo poi nel processo di coagulazione, cioè le proteine del complemento. Quindi in questa fase tipicamente vascolare si produce un essudato. I punti 3 e 4 sono rappresentati dall'ultima parte della infiammazione, cioè dalla fase cosiddetta cellulare, in cui vengono rimossi tutti i detriti delle cellule morte e fagocitando tutto il materiale presente nel tessuto, i fagociti e i granulociti determinano la cosiddetta restituzio ad integrum dell'intero tessuto.